si parte dove siamo e cominciamo con lo spetta qui malissimo e guarda vanno a uccidere il boss non è vero ecco andiamo a fare i tabelloni vedi ce l'hai ricordato e stanno le missioni ha detto claptrap ah ma non abbiamo nessuna missione attiva a parte che c'ho i non affrontabili quasi andiamo a prendere le missioni nel tabellone ma non ci sono missioni la pena ha detto claptrap fredda vabbè o dice lui alla strada mi pare che era questo chiesi il turbo vado qui io ecco qua ho un parcheggio di quelli tranquilli vedi c'è il punto esclamativo io vedo russo io vedo prova bruce togli i teschi umani dalla lance e infiltri nella miniera sono l'unico che vedo rotto si eh no pure io pure io perfetto vabbè forse il chiedo via io vabbè non ce li abbiamo ce l'avete quindi ce l'avete quindi comunque si è bugato tutto si è bugato tutto si ma al 2 non ci stanno i problemi credo nooo è solamente un problema della andiamo a trovare bruce c'è una bruce ma lei ma lei eh la porca puttana eh calata incastrata eh deve far fare manovre evasive ecco allora c'è sta una roba c'è sta una roba qui porca miseria cosa no che c'è sta il coso della eh allora oh un po' di sangue l'ho sbloccato eh la chi mette un po' di persone seguono i cani eh vabbè lei mi copre lei non prende però io prendo ecco vabbè dove mi segna questa cosa non riesco a capire dov'è bruce ah sta qua Bruceway invece è qui perché se hanno sceso non lo so e abiterà qui ah eh va sotto va sotto terra ah sì ah ecco vedi una scaletta eh sì ce ne sta sotto c'è la radio vediamo una cassa pure chi è oh che è oh ah un bazooka ma fa cacare cacare oh ma c'è pure e cumbra le scatole di sigla di plus vicino il titanale aspetta aspetta qui si vende qui si vende cos'è sta roba cacare qui non lo vuole nessuno no allora lo vendo ma lei vende ma lei vende se vuole vende 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 adesso c'è 5 colpi allora no via me lo tengo i colpi ce li abbiamo e quindi mo che che minchia dobbiamo fare allora selezionare la missione vedi ce stanno i ce ne sta un altro sì ci siamo sì ma dobbiamo andare dall'altra parte sì è rapido ah proprio in questa zona nuova con i cattivi qua ah sì qua è il bordello proprio là così in generale ma lì in bella vista ah ma qua ce stanno i teschi però che teschi ah vedi e non c'è pure la missione dei teschi due ce ne sta due per uno oh pensiamo un po' no vabbè dai madre santa cosa questo gioco è ingiocabile così che è successo eh no i tipi colpi in testa non ci ho partito i colpi da manca il dame è arrivato mamma ho voluto fare il primo è come a Natale eh 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 ho voluto fare il primo la saga è questa bene male non mi serve più il medico ma sta a sto palestrato duro qui eh è arrivato posso qui ci sta una cassa eppure qui sotto armi qui allora qua sopra un fucile che merda ah vedi questo è il mitra si devono rimuovere dieci teschi hai detto io ne ho presi tre un altro salva sopra mancano cinque un altro qua purtroppo il primo è fatto un po' male con la gente l'energia qua io sta a posto no green no arrivo sono qua davanti gli altri mi sento già meglio è uno qua noi ne abbiamo finito eccolo qua ok ma i sigari dove stanno ah stanno qua giù dall'altra parte si la rivedete stanno là sotto no no stanno qua sotto però il problema stanno i duri qua aspettate ma dovrebbero stare i palestrati o qualcosa del simile bravo ragazzi bravo ragazzi bravo ragazzi tranquilli ah l'ho pure preso così a cazzo beh qua l'altro era dall'altra parte nascosta ah non l'abbiamo visto ah là sopra è sopra come ci andiamo sopra devi far il giro da qui c'è sta no ci dovrebbe stare una piattaforma cosa che ci fa salire da qua sotto ah no da dietro dove iniziare mi ricordo da qua dietro ecco qua ecco qua sicuro ci sarà anche la cassa la cassa eh che cavolo ah ma ricordo era un casino c'è pure la cassa eh infatti onore a voi bello ma che cazzo significa non me l'ho aspettato non apri più le casse tu eh essa è vuota è vuota ma fosse colpa mia pure le munizie non ci so prenda la pistola ma forse sta parte è fatta apposta il valore è 1.6 è fatta apposta eh ok andiamo a consegnare o fammo l'altre ce ne manca uno mi sa no ce ne abbiamo fatte tutte in questa zona quindi è meglio che ci consegnare consegnare è fatta apposta e allora eeeh vabbè guarda qua che si incastra tutta sta macchina eh sì ogni volta uno deve prendersi il cid il cid questa è la McLaren e dietro c'è la Ferrari ecco la McLaren è di colore marrone vabbè che grigia marrone ma la McLaren come colore è nero cazzo è è duro è nero ormai nero opaco non lo vediamo più dai denti sono merda ma non è possibile ogni santa volta Ho visto qui, scendere la volta, è sempre giunto. Allora, adesso toz' ombra andando. Allora, regalo. Io il grasso è più cattivo. Adi a porch. Bruzz, mi che è brus, togli teschi. Voi te vissi? a me mi ha dato un fucile vedete un po se trovate un'arma a me mi ha dato il fucile però poi un'altra cosa sicuramente tenga attira guardi che fucile avesse buono è spettacolare per otto per otto a e allora e pure per 2 ma chi è che insomma livelli 4 voleva voleva allora andiamo a fare questo parlato o sennò questa qui andiamo a fare il nesco andiamo a fare il nesco la potata è per credere ecco così parte la musica si è dove ma quando sempre così sempre mai cambiato sta cosa che borderlands ancora mai ricordo tutti stessi eh per dire bordello mi hanno chiamato borderlands effetti guarda 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 eh nooo ehm faccio eh ehm ah la nostra volta è lennino ho visto dei pixel ho visto che pixel ah dici nel scaricamento no la della quando mi avete buttato proprio in faccia a doppeltù ah ok pixel ah che male ah che male vicente del piccato ah 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 oh ah ah ma una volta che l'ho aperto qua eh quanto pepe qua qua qua.. eh qua si apre oh è già aperto vabbè Ah, riuscirà un'altra volta, andiamo. No, no, fucile, fucile. Mitra, sì. Ficcile del Cobra. Ok, dodo che piazzale, più avanti. Che roba ha qui? Che roba? Alla semi traiette, se ve lo usc'è potente. Più ricarica. Ah, la cassa. Veda lei. La priorità è la sua qua. Le ringrazio. Eh beh, se vuole anche quest'altra, questa gliela lascio. La cassa è diversa. Eh, io l'ho dice, il mitraggatore. Vabbè, ma non la dai, ma non ne fossi guarda fuori da. Mamma mia. Da che casino. Questa cosa mi fa infanzire. Cosa è una cosa succede, guarda. Madre santissima, sto cazzo, cazzo le cose. La torista. La torista. C'è la pari, eh? Sì. No. Io, vabbè, aspetta. Via. Via. Eh. È una parita superficiale. Intanto io le piazzo a questa. Ok. Ok. Sono finiti? Eh sì, credo. Eh. Ma comunque, a volte qualche non arrivano, è un casino. No, è un po' una rottura di palo, cioè qua così, sinceramente. Ah, con rottura distrutta, dove tocca? Può essere, no, sta là sopra. Vai, 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 vai. Vai, vai. Proviamoci senza... Piglia. Poi, se mi ricordo bene, qua c'era una cassa. E va, sta dalla sob, dietro. Ah, eccola. Vediamo cosa c'è, ve lo dico subito. Fucile di cacca. 28 per 12, se vuole, attirano. E così, mi trovo quasi morto così, a cazzo. Va bene, lo piove io. Io se non l'avevo proprio visto. Oh, revolver, 191. Finita la missione. Cos'è questo? Revolver. C'era una cassa pure qua, no? Da quattro vado. Sì. Piano di cassa. Io sto mucchiata. Ah, vedi? Mi lo! Mi lo! Mi lo ha 207, ma... Quanto conviene? Fuoco. 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 Sare sul culo, velocità di fuoco, danno, colpo critico. Ma ormai, io ormai sono sinunciato ai cecchini. Ma lo prendo per vendolo. Eh sì. Che ormai, cioè, spari in testa e non arriva ai culpi. I critici non vanno proprio, ho visto l'ora. No, ma non è che non fanno i culpi, non vanno proprio. Vabbè, facciamo senza il lamento continuo. Ma è così. Ah, io devo fare una cosa, c'è sta il coso qua. Cosa? Ma no, non è qua. Devo azzerare i punti. Perché? De già. E perché, visto che il cecchino non è possibile usarlo... È che mi conviene fare una build più diversa. No, metto la, metto appunto sulle pistole. Che boh, è un morde che c'è la build delle pistole. Ah sì? Eh, allora... Mi conviene fare quello. Allora, o consegniamo subito o andiamo... Eh, tanto. Cosa facciamo? Consegniamo? Consegno, sì. Eh... Attenzione. Vedo anche se posso azzerare i punti. Eh. Da chi si fa di solito? Beh, è una specie di torretto dove si cambia colore anche del personale. Ovviamente si paga soldi, non azzerò. Credo che dovrebbe stare qua a destino. Ecco qui. Ecco qui. Eh, ormai. Questi sono cento euro qua, eh, dei paraochi. Eh, addirittura. Eh, oh. Eh, ma io gli ho detto i cento dollari del gioco per le raffinare. Ecco qua. Ah, qui sta Reset. Sì. Fate, fate, metto i punti, una nostra volta. Io vendo. Qua non c'era la cassaforte. No, qua no. No. E' anche dei problemi che posso non star dire. Uccidendo le mie comente per qualche seconda la quantità di bottini ottenuta dagli altri nemici uccisi. E' un problema. E' un problema. Ma che? E' un problema. Non c'è. ti stai ingroppando la macchina